C'è una politica orientata a cercare di aiutare chi è infelice a diventare più felice. Prima delle elezioni il Comune di Milano avrebbe fatto un assessorato alla felicità, questo è un progetto che verrà avuto avanti? Non era mai stato pensato obiettivamente da noi, non so a chi ha avuto questa idea. Per me l'importante è che lavorano bene i vari assessorati per far sì di aumentare il tasso di felicità a Milano. Grazie. A voi. Ciao.